Tra tante polemiche, l'Abruzzo si appresta a rinnovare il Consiglio regionale e a scegliere il nuovo governatore. Se tutto fino a liscio, ricorsi e sorprese a parte, il 10 febbraio si sfideranno in tre per la Presidenza della Regione, ovvero Giovanni Legnini o il Sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, e non sono escluse le primarie per il centro-sinistra, Sara Marcozzi per il Movimento 5 Stelle e il candidato del centro-destra unito, sul quale continua il confronto tra i partiti e le liste civiche, molti i papabili, tra i quali spiccano i nomi del leghista Giuseppe Bellachioma e di Fabrizio Di Stefano, che ha rilanciato la sua candidatura, ha stigmatizzato eventuali interferenze del tavolo nazionale ed ha attaccato duramente il PD sul rinvio della data delle elezioni. Il 10 febbraio era ricordato, ed è ricordato come la giornata del ricordo appunto, sarà ricordata anche la giornata della vergogna di Abruzzo, perché si doveva votare e si deve votare prima. Io mi immagino cosa farà il centro-sinistra con questa ultima legge di bilancio che dovrà gestire, quante prebende le regalie per accaparrarsi qualche consenso in più, inutilmente perché perderanno, ma certamente lo hanno fatto per 4 anni e a maggior ragione lo faranno quest'ultimo anno. Ma la cosa vergognosa è che questa di fatto è una regione che da quando arrivano al voto, che per 11 mesi non avrà avuto un governo legittimato. Intanto centrodestra e civiche per l'Abruzzo sembrano marciare unite. Il nostro progetto, quello di civiche per l'Abruzzo, che abbiamo incrociato e incontrato da un po' di tempo, che abbiamo sancito qualche settimana fa all'Auron di Pescara, dove abbiamo avuto una risposta sorprendente. C'erano circa 500 persone, auspico che il centrodestra possa andare unito, ma non accetterò certamente in posizioni romane. Io credo che gli abruzzesi siano sufficientemente maturi per accettare e per trovare sintesi abruzzesi. Però poiché si vota, e anche in altre regioni, si parla spesso ormai di una decisione del tavolo nazionale di centrodestra, anche per scegliere il candidato presidente dell'Abruzzo. Io credo che sia giusto che quando ci siano partiti di mezzo, i vertici nazionali siano interpretati, interpellati e responsabilizzati della scelta. Credo che debbano fare le giuste scelte, ma credo che non debbano farle a dispetto dei Santi. Ritengo che in questo si sbaglierebbe, qualora si rendasse da una scelta verticistica, senza tener conto delle istanze territoriali. A suo tempo le liste civiche, parlo del mese di luglio, fecero un sondaggio, da cui il sondaggio risultai ampiamente il più accreditato. Fabrizio Di Stefano ha dato la sua disponibilità ad essere il candidato del centrodestra unito delle liste civiche. Questa disponibilità, candidata alla presidenza della regione, c'è ancora? Assolutamente sì, anzi ancora di più adesso. Resta sempre più forte, sempre più presente la mia disponibilità alla candidatura.